Musica Ci troviamo nella piattaforma Orta di Ravenna, dove abbiamo appaltato proprio alla società Orta una prova specifica con tutti i nostri formulati. È una prova che deve verificare l'attività nei confronti delle malattie fogliari. Abbiamo utilizzato la varietà San Carlo perché viene attaccata molto bene dalla Septoria, direi che è la varietà Septoria sensibile più importante. In questo caso non abbiamo avuto un attacco di Septoria importante, ma un attacco di ruggine, ma è una varietà particolarmente sensibile anche alla fusariosi. Quindi mettendo questa varietà noi abbiamo la possibilità di trovare un po' tutta la gamma di malattie dei cereali. È una varietà ancora molto ricercata perché ha un coefficiente proteico molto alto, molto coltivata nell'areale bolognese, qui una varietà qualitativamente rappresentativa, ma una varietà che chiede almeno due interventi fungicidi per arrivare così verde. Abbiamo provato, ovviamente testato, due formulati ideali per le applicazioni in BBCH 39, che sono il Cantic, Fempropidina, Tebuconazolo, Procloraz, una bella miscela, uno tra i prodotti più utilizzati nella vicina Francia, e il Seguristra invece, l'SDHI, l'Osupirazà, la Strobilurina, la Zoxistrobing e il Ciproconazolo. Come possiamo vedere siamo davanti a una parcella trattata con il Cantic, direi una tenuta al verde veramente spettacolare. Sulla ruggine abbiamo un'ottima attività del formulato, è chiaro che qua non sono stati fatti interventi in spiegatura, perché vogliamo proprio visionare solamente l'attività dei prodotti in fase missione ultima foglia classica BBCH 39. Allora, in particolare, adesso andiamo a vedere nel particolare la prova, noi possiamo vedere qui sulla mia destra un testimone con le foglie perfettamente distrutte dalla ruggine bruna. È chiaro che non dobbiamo confondere le foglie gialle che sono fisiologicamente morte, ma di una morte naturale, con queste foglie che invece hanno avuto una morte, direi, piuttosto traumatica. Nella mia parte sinistra, nella parcella numero 2, invece vediamo come i prodotti hanno avuto un controllo pressoché totale della ruggine bruna. In particolar modo, qui abbiamo applicato un Carnival Fura BBCH 39, la miscela tetraconazolo Prochloras, seguita a un BBCH 61, spiegatura da un Seguri Sera, protioconazolo più isopirazan. Questa per noi è una linea, direi, molto interessante per proteggere, diciamo, la maggior parte dei grani coltivati nell'areale Emiliano Romagnolo. Un'altra tesi molto interessante è la doppia applicazione, il Miradostra, a BBCH 39, azoxistrobin più ciproconazolo, una strobilurina, che ha un effetto riverdente molto importante, seguito dalla Seguri Sera in spiegatura. Questa è una linea particolarmente indicata anche in areali del Foggiano del Sud, perché sappiamo benissimo che le strobilurine in quegli areali, suoidio e ruggini, hanno un'attività decisamente superiore ai restanti prodotti. Ecco, qui vediamo una cosa molto interessante, un po' come leggere le prove. Allora, nella mia mano sinistra ci sono delle foglie con una morte fisiologica, cioè è chiaro che quando il sole non arriva più e quando perde la fotosintesi glorofiliana, la foglia deve morire in questo modo sana. Viceversa, quando invece abbiamo degli attacchi fuggini portanti, le foglie muoiono decisamente male, come in questo caso, dove troviamo degli ampi dissecamenti fogliari e una morte precoce, diciamo, della foglia. E' chiaro che la differenza sostanziale è che queste foglie continuano a fare un po' il loro mestiere e queste sono già completamente compromesse. Dobbiamo anche verificare gli aspetti, diciamo, fitotossici di alcuni prodotti. Chiamiamola così, la digestione dei fitosanitari, dei fungicidi che noi applichiamo sulle foglie e molte volte produce questo tipo di reazione. Quindi noi abbiamo una problematica soprattutto su alcuni grani e quando questi sono particolarmente stressati dall'allanamento stagionale. Quindi non tutti gli anni, non nella stessa forma, ma quest'anno lo abbiamo potuto verificare. E questo ci dà una grande opportunità, perché se è vero che i fungicidi devono controllare ovviamente i funghi, è altrettanto vero che non devono manifestare in nessun modo azioni fitotossiche nei confronti della pianta. Abbiamo praticamente dei prodotti che sono già ormai conosciuti. Il primo è il Seguri Sera, abbiamo visto anche le performance del prodotto sulla ruggine bruna, estremamente interessante, due applicazioni all'anno, una miscela già precostituita di protioconazolo, il miglior prodotto contro il complesso delle fusariosi, e l'isopirazam, l'SDHI, che rinforza ulteriormente l'attività su ruggine, oidio e septoria. Questo è un prodotto classico per il T3. L'abbiamo lanciato anche ultimamente, e lo lancieremo praticamente il prossimo anno, quest'anno abbiamo fatto delle grandi prove dimostrative, il Cantic. Che cos'è il Cantic? È una miscela a tre vie di Fempropidin, Tebuconazolo Procloraz. Fempropidin è la novità praticamente di questo formulato, consente al formulato, al prodotto, di avere un'attività estremamente importante sulle ruggine, loidio, e avere anche qualcosa di importante, una mezza croce, diciamo, sulla septoria. Un'applicazione all'anno, noi consideriamo questo formulato estremamente interessante nel BBC H39, cioè a emissione ultima foglia. Un ottimo controllo, anche questo, sul nivale, sul fusarium nivale, sulle ruggine, sull'oidio e sulla septoria. Un ottimo controllo, anche questo, sul nivale, sulle ruggine, sulle ruggine, sulle ruggine, sulle ruggine, sulle ruggine, sulle ruggine. Un ottimo controllo, anche questo, sul nivale, sulle ruggine, sulle ruggine.